La comunità di fedeli di Acitrezza il prossimo 15 marzo ricorderà Monsignor Alfio Coco nel decimo anniversario della sua scomparsa. La comunità parrocchiale Trezzota lo ricorderà con due appuntamenti nell'ambito del programma di iniziative per la Quaresima. Lunedì 14 alle 16, davanti alla tomba di Monsignor Coco nel cimitero di Acicastello, si terà una breve celebrazione e l'omaggio floreale offerto dalle comunità parrocchiali di Acitrezza. Mentre martedì 15 alle 18, Don Salvatore Coco presiderà la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giovanni Battista, animata dal corro parrocchiale Tedeum Laudamus, diretto dalla maestra Maria Ili. Al termine della Santa Messa verrà proiettato un video sulla vita del ministero sacerdotale di Don Alfio Coco, realizzato da Angelo Fragalà. Successivamente alla presenza del sindaco Filippo Drago e delle autorità civili e militari comunali, sarà svelata la targa di intitolazione della stradina accanto alla chiesa madre, già Vico Chiesa, alla memoria di Monsignor Coco. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dalla confraternita San Giovanni Battista, accolta dalla giunta comunale di Acicastello e autorizzata dalla prefettura di Catania.